Vi piace questo colore? Io trovo che sia stupendo. Potrei fare come voi e dare un nome a questa trasformazione. Perché no? Signori, voglio presentarvi il Super Saiyan Rosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vabbè, però a parte questo il doppio G italiano rimane comunque meglio di quello originale.